Siamo con Mr. Masi al termine di questa vittoria storica del Procalcio Torsapienza sulla Vigor per Conti. Mr. c'è grande entusiasmo oggi, le chiedo che significato ha, cosa rappresenta per lei questa vittoria? La Vigor per Conti, come anche Donio Sposonato Orte e Teste, sono partite da noi molto sentite, contro squadre più blasonate e organizzate sicuramente di noi. Abbiamo dato il massimo e questo ci ha premiati alla fine due vittorie inaspettate, ma alla fine ha meritate. Ecco, oggi tutti ampiamente oltre la sufficienza, credo che anche e soprattutto la difesa oggi abbia fatto la differenza, quel gol di Cicchinelli ma anche la prestazione dei due tersini oggi è stata superlativa. Guarda, anche sul campionato Orte e Teste abbiamo subito zero gol e quindi la prestazione della difesa è stata molto importante. Quindi anche oggi è stata ribadita lo stesso quartetto di difesa e ha dato gli stessi risultati perché hanno fatto un'ottima partita tutti quanti. Poi il Cicchinelli, il capitano, è stato a ciprecino sulla torta. Ecco, mister, quattro partite, quattro vittorie, adesso non potete più nascondervi? No, guarda, ci tengo a precisare che noi siamo partiti per fare un buon campionato, non per stare lì sopra. Quindi diciamo che abbiamo preso un po' di vantaggio per quando verranno momenti più difficili e quindi dopo dovremo inseguire insomma.